Buonasera, buonasera a tutti, bentornati qui sul canale di Economia Italia. Questa sera abbiamo un grande ospite, Pier Camillo Falasca, ex consigliere di Mara Carfagna, ministro del Sud Italia, poi eventualmente ci dirà lui esattamente come sono andate le cose, e anche fellowship dell'Istituto Bruno Leoni, e questa sera l'ho contattato in qualità di uno degli esponenti che sta cercando di cambiare più Europa dall'interno. Quindi saluto ovviamente chi ci sta seguendo e saluto anche Pier Camillo che ha accettato l'invito, grazie mille. Ciao a te Umberto e grazie a tutti quelli che ci seguono. Ok, partiamo bene. Allora io parto dicendo che mettere un piccolo like alla trasmissione aiuta alla diffusione del video, quindi è super importante, vedo che siamo già in tanti, quindi mi fa piacere. Detto questo vorrei partire appunto da una piccola presentazione, nel senso che che esperienza, la mia domanda è che esperienza ti ha portato quella di lavorare a fianco di appunto Mara Carfagna, quindi che esperienza ti ha dato? Allora, io ho accettato fin da subito, insomma fin dal giorno dopo la sua nomina a ministro per il Sud della coesione territoriale, innanzitutto perché si trattava di lavorare per la nazionale, per il governo Draghi, secondo me un governo eccezionale, per tempi eccezionali, per la ripartenza economica dopo la pandemia, per impostare il piano nazionale di ripresa e resilienza, e per me farlo da meridionale, per il ministro per il Sud della coesione territoriale, era una motivazione in più. Io conoscevo Mara Carfagna da qualche anno, per ragioni sia politiche che diciamo professionali, e diciamo quindi ho accettato la sua proposta perché sapevo che si trattava di una proposta fatta, passami il termine, a un meridionalista liberale, quale come dire prova ad essere, cioè ad una persona che nel suo lavoro con l'Istituto Brnoleoni e non solo, ha sempre cercato di dare una visione del mezzogiorno, non necessariamente non solo, anzi diciamo non come una terra da risarcire per un divario atavico incolmabile, ma come una terra su cui investire per ridurre quelle distanze, quelle differenze, su cui come dire provare a innescare quel processo di attrazione, di investimenti, di ricchezza, di produttività, che oggi in realtà è un grande giacimento di valore per l'Italia, perché io sono convinto, e diciamo per anni ne avevamo parlato in discussioni che avevamo avuto informali con Mara Carfagna, che se cresce il Sud cresce l'Italia, perché è proprio al Sud che ha il più grande bacino di capitale umano in espresso, innanzitutto femminile, e quindi diciamo queste riflessioni di anni poi hanno portato, e sono stato molto contento ovviamente, alla sua proposta di lavorare come consigliere, poi di fatto sono stato il capo della segreteria tecnica nell'anno e mezzo di governo. Per me è stata una bellissima esperienza perché si è trattato appunto di lavorare in un governo eccezionale, guidato da una personalità che ho avuto modo di conoscere come Mario Draghi. Nella fase iniziale, come dire, davvero abbiamo dato prova che l'Italia può essere governata con un passo diverso, con un approccio diverso alle politiche pubbliche, alle scelte, al rapporto tra le nostre istituzioni e l'Europa. Poi, come sempre, queste finestre, ed è già la seconda volta che accade, era accaduto col governo Monti, si chiudono più rapidamente di quanto dovrebbero perché i partiti politici in qualche modo provano in maniera sgangherata a riprendersi uno spazio e a tornare al politics as usual, diciamo. Certo, e qui, diciamo, secondo te siete riusciti a ottenere qualche obiettivo per migliorare l'economia del Sud grazie alle ZES, oppure a tuo avviso c'è ancora molto da fare? Cioè quali sono gli stati impedimenti eventualmente e quali sono stati gli obiettivi raggiunti? Guarda, siamo arrivati con delle politiche, diciamo, per il mezzogiorno che erano essenzialmente guidate dalla logica dei bonus, i bonus assunzioni, dei bonus investimenti, che anche il predecessore di Mara Carfagna, cioè Peppe Provenzano, aveva assolutamente, come dire, usato come logica per le politiche per il Sud. L'idea invece sarà quella di invertire il processo e di investire essenzialmente su tre grandi filoni. Il primo è quello degli investimenti infrastrutturali, irrobustendo la parte di investimenti infrastrutturali per il Sud, nel PNRR e nei fondi di sviluppo e coesioni nazionali, l'alta velocità dovunque, la banda larga dovunque, investimenti importanti nelle reti idriche, e quindi tutta una serie di cose che restano, perché ricordiamo sempre che la spesa al Sud è stata importante, imponente, eccessiva nei decenni quando si tratta di spesa corrente. Quando si parla di spesa per investimenti, in generale l'Italia verso il Sud, ma il Sud per il Sud sono stati molto deficitati. E quindi, diciamo, spesa per infrastrutture e per investimenti come Pnofilone. Secondo quello dell'attrazione degli investimenti internazionali, l'idea delle zone economiche speciali da valorizzare, da rendere dei veri progetti pilota, in cui avere burocrazia zero, o comunque molto agevolata, tassazione più leggera, ma soprattutto la burocrazia, perché quello è appunto il punto cruciale, per dimostrare nel mondo che anche l'Italia ha una dimensione mediterranea importante con queste zone economiche speciali e al ridosso dei propri porti. E il terzo pilone poi è il capitale umano. Abbiamo davvero fatto i sindacalisti del Sud su un tema cruciale come quello degli asili nido? Perché ritenevamo, ritenevamo ancora, che una società italiana che ha un tasso di partecipazione femminile al lavoro del 33%, cioè solo una donna su tre in età da lavoro, ha dei problemi, ma il mezzogiorno ne ha una su quattro e liberare il lavoro femminile nel mezzogiorno si fa anche e soprattutto immaginando di liberare le donne dal ruolo di, in qualche modo, supplenti del welfare privato, delle famiglie. Quindi questi filoni, che sono stati filoni importanti e che secondo me hanno caratterizzato e da cui nessuno in futuro potrà discostarsi troppo, perché esiste il Sud, diciamo, che tu tratti con il reddito di cittadinanza ed esiste il Sud che tratti con gli investimenti pubblici e l'attrazione di investimenti privati internazionali. Quindi è un paradigma totalmente diverso. Certo, certo. Diciamo, ci sono stati fatti così. Poi dopo il PNRR non ha effetti, come dire, paliglianetici. Bisogna poi che si riattivi la capacità delle amministrazioni di funzionare. Ecco, io volevo farti appunto una domanda sulla capacità dell'amministrazione di funzionare. Ad esempio, ti pongo due temi. Il primo tema è un pochino più vecchio, l'altro è un pochino più recente, quindi eventualmente magari sei più aggiornato te di me su quest'altro, perché ovviamente sta ancora facendo i suoi lavori la Corte dei Conti. Però parliamo di Napoli. Napoli aveva un problema di debito pubblico che è stato trattato più o meno come quello di Roma in precedenza, con alcune condizionalità, eccetera, eccetera. Però abbiamo visto un Draghi, secondo me, molto deboli lì. Cioè si poteva fare molto di più, si poteva chiedere molto di più alla cittadina di Napoli per migliorare, diciamo, i suoi conti. Secondo elemento, invece, è la Sicilia. Cioè Sicilia, che stando a quanto dice la Corte dei Conti, presenterebbe dei bilanci, quantomeno con, ecco, io non voglio accusare nessuno di farsi in bilancio, però quantomeno con crediti inesigibili. Quindi volevo chiederti, la vostra azione, da questo punto di vista, poteva essere migliore durante quest'anno e mezzo o questi sono dei, diciamo, degli elementi che si trascinano ormai da tempo e su cui non potevate intervenire direttamente. Ora, non per, come dire, fare un imbalzo di responsabilità, però è chiaro che il Ministro per il Sud della questione territoriale non aveva in mano le leve di, come dire, di risanamento della finanza pubblica degli enti territoriali. È un tema, come dire, di presidenza del Consiglio, è un tema da Ministero dell'economia e della finanza. Tantissimi enti territoriali al Sud sono tecnicamente falliti, hanno una quantità di crediti inesigibili enorme e secondo me nei prossimi anni questo tema esploderà, non solo al Sud, peraltro. Sì, 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 sì. Ma come sempre al Sud c'è un'intensità dei problemi maggiore. Quindi io penso che questo sia un tema enorme che non è stato affrontato. Concordo con te quando dici che Draghi su quello ha cercato di usare più la carota, diciamo, che il bastone. Io penso che a Napoli, come in altre città del Sud, occorra imporre dei piani di, ad esempio, alienazione, di patrimonio pubblico totalmente infruttifero, una messa a gara di servizi pubblici che oggi sono gestiti male in maniera clenterare su tutti. Il caso dell'Acquedotto di Napoli, l'azienda speciale ABC, Acqua Bene Comune, costituita da De Magistris, come diceva Andreotti dell'Acquedotto Pugliese, non sappiamo quanto fa bere, però fa mangiare tanta gente, un po' troppa. E diciamo con dei paradossi assurdi, questa azienda speciale che è piena di debiti non essendo un'azienda gestita con una governance adeguata ai modelli europei, non può ricevere finanziamenti PNRR o fondi europei in futuro per la manutenzione delle reti idriche. I trasporti pubblici sono in una condizione comodosa, allora lì bisognava imporre, ad esempio, come dire, una cura dragoniana, vale per Napoli, vale per la Sicilia. Socialmente, politicamente difficile, devo dire che non c'è un partito politico che abbia la forza e la capacità al sud di avere un atteggiamento responsabile adulto nei confronti dei propri cittadini, perché qui abbiamo avuto in Italia o la Lega che dal nord parlava del sud come una controparte, ma quando poi la Lega come si è fatta nazionale insieme agli altri partiti ha avuto lo stesso atteggiamento, cioè quello di essere essenzialmente dei sindacalisti del sud contro contro lo Stato centrale e questa è una cosa che va assolutamente ribaltata. Purtroppo Draghi non aveva la bacchetta magica, cioè non puoi far cose col Parlamento contro e io penso che su questo come su altri temi si poteva, come dire, quanto meno usare di più. Ecco, ti faccio un'altra domanda prima di passare poi alle vicende per cui ti ho chiamato, però diciamo volevo sfruttare anche l'occasione visto che comunque hai avuto modo di lavorare all'interno del governo, quindi secondo me è un buon tema da affrontare. Ecco, come la vedi la questione sul ponte, sullo stretto di Messina? Ti dico già la mia così eventualmente poi puoi aggiungere o dirmi no, secondo me stai sbagliando. Secondo me è una bella infrastruttura che però rischia di essere una cattedra nel deserto e di conseguenza costare moltissimo sia i cittadini italiani ma soprattutto quelli della Calabria e della Sicilia. Quindi volevo chiederti si può fare? Salvini ha ragione con le sue frasi solite fatte un po' a caso oppure effettivamente c'è una base seria su cui lavorare? Insomma è tutto un tema di allocazione delle risorse cioè il ponte sullo stretto di Messina ha senso farlo se tu non hai di meglio da fare con quelle risorse e secondo me oggi c'è di meglio da fare con quelle risorse tipo col PNRR si sta realizzando l'alta velocità Palermo Messina Catania diciamo è un'alta capacità cioè i treni non arriveranno alla velocità a cui siamo abituati col frecciarossa sulla tratta Milano Bologna Firenze Roma Napoli Salerno e allora ad esempio si potrebbe mettere lì in Sicilia c'è un tema enorme anche in Calabria di perdite idriche c'è un tema ed è molto molto importante nei prossimi anni rischia di rischia di peggiorare e allora ad esempio la Sicilia potrebbe essere la terra dove noi sperimentiamo in Italia gli impianti di desalinizzazione che come dire sono comunque una prospettiva importante e si potrebbe far quello infrastrutture energetiche la Sicilia e la Calabria hanno bisogno di infrastrutture energetiche che le mettano a riparo da manchi di energia si sta realizzando un triangolo diciamo di infrastrutture tra Campania Sardegna e Sicilia c'è bisogno però di collegare ancora di più la Calabria con il resto d'Italia io penso che come dire investire più risorse su trasporto su ferro porti aeroporti energia e acqua oggi sia la priorità per il per il sud più che il ponte sullo sito di Messina e poi la sanità diciamo come dire parlo di infrastrutture sto sempre parlando perché c'è per me la spesa per infrastrutture va come dire confrontata con la spesa per infrastrutture la spesa corrente è un altro paio di maniche poi dopodiché il ponte sullo sito di Messina è un'infrastruttura sostenibile da un punto di vista economico finanziario è tutto da vedere questo dipende da quanta gente lo usa io non sono di quelli che pensa che solo quando c'è una domanda sufficiente devi realizzare l'infrastruttura perché sono consapevole che con questa logica non avremmo mai fatto l'A1 non avremmo mai costruito un'autostrada l'hai fatta e poi è diventata l'ossatura del paese certo però secondo me prima di arrivare al ponte devi innanzitutto come dire creare le condizioni per cui quel ponte sia sostenibile quindi creare una domanda di traffici più rilevante allora per esempio c'è da investire sui porti perché quella è la vera è la vera priorità ma la mia paura se mi concedi lì è che sapendo che a sud Italia abbiamo delle situazioni molto critiche dell'amministrazione pubblica e non voglio scomodare fenomeni di criminalità organizzate quanto altro cioè proprio parlando proprio dell'amministrazione pubblica che va spesso e volentieri diciamo diciamo è un'amministrazione provvisoria comunque con bilanci non troppo belli ecco alla fine della fiera poi pagano tutte le altre regioni d'Italia nel senso che lo Stato si incarica di quel debito e quindi giustamente lo paga il resto della cittadinanza e poi questo gioco interattivo porta che cosa porta a fare continui moral hazard cioè io continuo a creare un azzardo sul fatto che lo Stato poi alla fine arriverà è un po' la stessa giogica che usa l'Italia a mio avviso nei confronti dell'Unione Europea cioè continuo a fare azzardo morale tanto alla fine della fiera arriverà la Germania o la Francia o chi per loro a salvarmi infatti nel dibattito sul sul federalismo sull'autonomia differenziata c'è questo non detto c'è vero federalismo se tu regione hai il potere impositivo e hai il potere di spesa cioè ti raccogli da sola le tasse che poi spendi e il circuito democratico si chiude perché io so cittadino che tu mi stai chiedendo X per fare X contemporaneamente un altro punto essenziale del federalismo è il fallimento cioè la bancarotta si deve poter fallire cioè io devo avere il rischio fallimento da parte dell'ente gestito male poi con delle procedure ovviamente che devono salvare i cittadini e tutelare i diritti essenziali di tutti indipendentemente dal luogo di residenza ma l'ente deve fallire cioè deve essere messo in condizioni di come dire di arrivare alla fine delle sue possibilità per poi come dire avere un percorso di ripartenza in cui i cittadini si possano rendere conto di che cosa sta succedendo alle loro risorse se non c'è potere impositivo legato al potere di spesa e se non c'è la possibilità di fallire secondo me tutte le belle parole sull'autonomia e il federalismo sono campatenaria e questo sarebbe il federalismo che serve anche al mezzogiorno un federalismo che aumenta il livello di responsabilità poi ovviamente ci sono tante altre questioni che devono essere messe in campo perché noi al sud abbiamo ad esempio in tanti ambiti una spesa per servizi sociali più bassa di quella dei comuni del centro nord perché come dire c'è un caso eclatante che è quello appunto degli assili nido cioè tu hai comuni o anche del trasporto scolastico ai comuni al sud che hanno pochissimo di trasferimento dallo stato per questi servizi perché storicamente hanno avuto poco però perché hanno avuto poco perché i loro bilanci erano sostanzialmente ingolfati da spesa per il personale cioè nel corso dei decenni al sud si è preferito usare la spesa pubblica come una specie di ammortizzatore sociale per chi lavorava o stava a parcheggio nei comuni nelle amministrazioni anziché usarla per i servizi per i cittadini allora poi con gli anni delle sentenze di bilancio hanno fatto sì che gli enti continuassero ad avere soldi tanti per il personale improduttivo o poco produttivo e poco per quei servizi e allora se vogliamo dare più soldi per i servizi e dobbiamo darlo per dare più soldi agli asili ai trasporti pubblici ai servizi per anziani per i poveri al sud forse dobbiamo iniziare a pensare anche agli esuberi a licenziamenti a mandare via quantomeno i fannulloni ma se questa cosa non la fai perché è politicamente insostenibile allora è complicato reggere tutto certo allora ti chiedo insomma dell'esperienza recente politica anche in Italia c'è e poi in più Europa qual è il filo conduttore che vi sta conducendo con Pizzarotti a tentare questa chiamiamola scalata che poi tanto scalata non è perché insomma mi pare comunque a parte Pizzarotti ma la gente che sta intorno alla vostra corrente abbia sempre più o meno fatto di più Europa la propria casa quindi volevo chiederti più che altro la visione che state portando avanti perché in Italia c'è mi è parso che voi foste un pochino più vicini ad Azione Italia Viva e e invece insomma tornare con più Europa che l'abbiamo visto recentemente Usuelli che è stato anche nostro ospite si è candidato con Maiorino sostenuto dal Movimento 5 Stelle ecco mi sembra una visione quantomeno diversa ecco allora io diciamo mi ero allontanato da più Europa per oggettivi dissidi sulla governance e sulla guida del partito da parte dell'attuale segreteria poi mi sono dedicato appunto a questa esperienza che abbiamo parlato che mi ha molto piaciuta in cui penso come dire pro quota di aver dato quello che potevo a un certo punto diciamo abbiamo iniziato una serie di riflessioni con degli amici degli esponenti politici degli amministratori tra cui appunto Federico Pizzarotti c'era una prospettiva in realtà era una prospettiva che vedeva come traguardo le elezioni del 2023 e una figura che a me piaceva tanto come potenziale leader di uno schieramento post-draghiano che è Beppe Sala con quelle con quella prospettiva delle elezioni del 2023 ragionavamo della necessità di mettere in campo un fronte che non lasciasse appunto che la parentesi del governo Draghi si richiudesse così come si era aperta ed era una riflessione che abbiamo compiuto con tanti anche con con Mara Carfagna con altri con altri esponenti del governo le elezioni anticipate hanno reso tutto come dire abbastanza complicato se non impossibile a partire dalla mancata disponibilità di Beppe Sala a un impegno abbiamo cercato di come dire di tenere in piedi la rete che nel frattempo stavamo animando e con Federico abbiamo fatto delle riflessioni oggettivamente stavamo dialogando col centro-sinistra quando ci sembrava esistesse ancora un centro-sinistra con azione che era ancora in coalizione con un veto secondo me incomprensibile su Italia Viva la partecipazione di una coalizione quando poi le cose si sono rotte cioè quando sostanzialmente poi Renzi è rimasto fuori abbiamo iniziato a dialogare con Renzi poi Calenda ha lasciato abbiamo cercato di capire se c'erano le condizioni per irrobustire l'offerta politica di quello che stava appunto per definirsi terzo polo però con molta sincerità Renzi e Calenda soprattutto Renzi con totale amicizia ci ha reso abbastanza evidente il fatto che con i numeri che c'erano lui aveva innanzitutto la necessità di portare a casa come dire di riportare in Parlamento un po' della sua classe dirigente e che non c'erano le condizioni per un progetto più ambizioso che andasse oltre la sommatoria delle due sigle l'abbiamo capito non lo abbiamo non lo abbiamo non abbiamo condiviso la cosa perché secondo noi si poteva fare un'operazione che in qualche modo fosse anche alle elezioni più ambiziosa ma l'abbiamo capito passata questa esperienza con Federico e altre amici abbiamo fatto una riflessione è venuto il momento di in qualche modo ricostruire un campo di gioco liberal democratico riformista riformatore e siccome francamente da fondatore fondatore di Pio Europa non mi era mai passata l'idea che Pio Europa potesse essere protagonista di questa ricostruzione politica per il futuro ho accettato la proposta così come ha fatto Federico di alcuni amici di partecipare al prossimo congresso di Pio Europa con una linea politica che da un lato quella di far di Pio Europa diciamo un soggetto politico che accanto ai temi che sono suoi propri quello della libertà personale dei diritti civili dell'Europa come metafora delle nostre libertà ci fossero anche i grandi temi del quotidiano del lavoro della qualità della vita dell'ambiente dell'amministrazione e delle amministrazioni appunto Federico Pizzanotti è un sindaco che sebbene eletto io prendo in giro dicendo con la macchia iniziale del Movimento 5 Stelle subito dopo pochissimo aveva svelato il blef e ha realizzato ad esempio il termovalorizzatore a Parma contro il suo il suo ex movimento e allora abbiamo deciso che più Europa è per storia per modello di democrazia interna un luogo che poteva essere come dire animato e ravvivato noi crediamo che più Europa debba essere protagonista nella ricostruzione dello spazio libero al democratico io penso che debba immediatamente riprendere un dialogo con con l'attuale terzo polo ehm ma non per sciogliersi perché azione Italia Viva non si stanno sciogliendo ma per partecipare alla ricostruzione di quello spazio poi se dovesse partire un percorso serio di costruzione di un partito partito significa regole democrazia interna eh dinamiche come dire plurali e non lideristiche io penso che la più Europa del futuro dovrebbe coraggiosamente farne parte fino a quel momento deve pensare innanzitutto a robustirsi a ritrovare attrattività a riprendere un linguaggio ehm come dire comprensibile a una fetta più ampia di cittadini italiani e eh come dire essere una forza di opposizione europeista all'attuale governo sovranista possiamo farlo ok ma questo cioè quello che ti sono l'opera lunga però per dire no 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 che più Europa non deve essere un cespuglietto eh del PD che accetta che il PD eh come ti prenda questa questa deriva che sta prendendo eh senza colpo ferire beh diciamo che si sta avvicinando più alle percentuali di azione Italia Viva insieme più che verso le nove senza nulla toglie però le ultime proiezioni la stanno dando sotto il 15% quindi azione Italia Viva più o meno 9-10 quindi ecco non voglio infierire però ecco questi sono i dati attualmente questi riporti dopo di che però la domanda che mi interessa porti ora è qual è la differenza nei fatti concreti cioè mi sta bene che tu mi dici io voglio spostarmi cioè voglio inserirmi all'interno di più Europa per poterla traghettare verso più una posizione di centro che comunque sarebbe anche la sua collocazione naturale volendo guardare perché appunto più Europa è vicino all'Alde però sui temi che è la cosa principale di che cosa vogliamo parlare perché più Europa comunque ha lavorato per i diritti civili anche questa estate anche la scorsa estate scusatemi se ci ricordiamo bene ad esempio con il referendum per l'eutanasia e per la cannabis in modo molto attivo io stesso ho firmato quei due referendum e quindi direi che comunque la sua mission per quanto sia fortemente limitante diciamo inserirla soltanto su il referendum cannabis e eutanasia mi pare che l'abbia portata comunque a casa ad esempio mi viene in mente le modifiche che ha messo in campo che ha messo in campo appunto più Europa all'interno del Parlamento per far sì che si potesse votare appunto il referendum attraverso speed e via discorrendo quindi tutta una serie di cose che allargano i diritti civili quindi ti chiedo qual è l'elemento che volete portare in più probabilmente forse è quello economico che manca molto più Europa mi pare di capire in questi momenti sì riprendere a essere una forza libertaria sui diritti civili liberale e liberaldemocratica in economia e come pragmatica anche sul grande tema dell'ambientalismo cioè secondo me oggi sempre di più una forza liberaldemocratica liberaldemocratica deve parlare di diritti civili una una rivoluzione economica che torni a fare di questo paese un luogo interessante dove vivere lavorare investire e tre una un approccio pragmatico non ideologico all'ambiente alla transizione ecologica il che vuol dire una forza che sappia dire che ad esempio il nucleare è ecologico una forza che sappia dire che la la grande rivoluzione dell'idrogeno merita investimenti anche da sottrarre a spese assistenzialistiche e una forza che sappia contrastare ogni forma di sindrome del no a tutto dal rigassificatore fino alle paleoliche diciamo offshore quindi diciamo secondo me questi tre filoni sono tutti importanti ma vanno valorizzati noi non diciamo con Federico che sia limitante parlare soltanto di legalizzazione della cannabis o di immigrazione diciamo che però come dire per convincere le persone i cittadini che sono convinti diciamo dell'importanza di questi temi a votare per più Europa si deve dare di più Europa un'immagine complessiva cioè un'immagine di un partito che prova ad affrontare tutti i grandi temi che riguardano la nostra vita che sono sicuramente quelli dei diritti ma sono anche quelli del lavoro e dell'ambiente della qualità della vita e da questo punto di vista bisogna fare un po' di più secondo noi ma si deve fare tu hai citato il nucleare per dire tu hai citato il nucleare per dire e qua incontri più o meno il bene placito mi pare di Calenda ma probabilmente il no di Renzi nel senso che non dico che Renzi sia per il no a prescindere ma mi pare che da quando inizialmente c'era la proposta di azione di fare il nucleare quando è stato proposto il programma di Europa azione il nucleare ha perso molta importanza all'interno del programma dopodiché quando è finito dentro il terzo polo è stato ulteriormente declassato tant'è vero che si parla soltanto di progettualità di parte burocratica e poco altro non si parla nemmeno diciamo di come reperire le risorse come andare sul mercato a chiederle se si vuole fare una partecipazione se si vuole trovare risorse nel bilancio e via discorrendo voi che approccio avete al nucleare per dire perché non basta semplicemente credo io dire sì ci piace il nucleare no no infatti non basta non basta anche perché se lo dici poi non stai facendo nulla per farlo esatto anche perché conosciamo tutti come dire vale un po' come per il ponte sullo setto di Messina no cioè se ne fai una bandiera ideologica se a favore delle opere pubbliche o contro le opere pubbliche io mi schiero chiaramente a favore delle opere pubbliche non mi schiero contro però poi se approfondiamo ti parlo di sostenibilità finanziaria ti parlo di allocazione delle risorse come abbiamo fatto prima una cosa simile vale per il nucleare bisogna capire chi paga la sostenibilità quali tecnologie su quali puntare su quali non puntare quale dimensione degli impianti ovviamente e quindi bisogna fare discorsi come dire molto più complessi e molto più articolati che purtroppo non necessariamente trovano attenzione nei mezzi di informazione italiane che tendono a rendere il dibattito molto semplificato però io penso che diciamo si possa e si debba fare una proposta delle proposte articolate su questo ma innanzitutto non bisogna avere paura di un sondaggio perché i nodi stanno venendo al pettine in Italia e nel mondo sempre di più ci stiamo rendendo conto che qualsiasi altra soluzione soluzione energetica crea delle forme di dipendenza e crea delle diciamo delle esternalità negative ambientali sempre importanti i pannelli solari ti rendono dipendente dai paesi che producono che producono le materie prime per realizzarli le fonti fossili allo stesso anzi di più i seti libri della Russia poi sei sottomesso a determinate logiche di relazione col Catarre non solo e quindi alla fine in un modo o nell'altro le fonti le fonti rinnovabili sono discontinue in un modo o nell'altro va come dire smontato il mito del nucleare sì nucleare no in termini ideologici bisogna iniziare a parlare di che cosa possiamo fare dove quando per inserire il nucleare nel nostro mix energetico ovviamente va fatto con un con un programma con un programma serie dettagliato ma va innanzitutto spiegato agli italiani che stiamo parlando di un di un di un futuro come dire di un futuro inevitabile su cui non ha senso come dire provare a nascondersi per lucrare consenso o per non perdere consenso cioè su questo ci vorrebbe davvero una politica più matura che su questo faccia un po' di diciamo di cartello cioè che non si non si scontri su questo però diciamo certo beh un altro tema perché io ho seguito a spizziche boccone però l'ho seguito il recente congresso dei radicali italiani e sicuramente più Europa piaccia o meno in qualche modo è collegata non direttamente non ufficialmente non per vie statutariche però insomma non possiamo non dirci che alcuni collegamenti non possiamo non dirci radicali diciamo esatto è un po' difficile ecco che che venga a dirti i radicali italiani e il partito radicale sono assolutamente terzi rispetto a più Europa sarebbe mentire di fronte a noi ecco all'interno di questo congresso si è parlato tanto di price cap si è parlato tanto di tassazione di extra profitti mi sembrava di stare al congresso di dei movimento 5 stelle e ti devo dire che anche queste cose qua magari molto più edulcorate le ritroviamo in alcune proposte veramente velleitarie di azione e di taglia viva sotto certi aspetti più di azione che di taglia viva verrebbe da dire ecco qua voi come vi ponete state andando verso una visione ad esempio io penso alla critica di Dario Stevanato alla appunto alla tassazione sugli extra profitti che poi si rivelò effettivamente vera e poi penso anche semplicemente al price cap che tutti dicevano che bisognava metterlo salvo poi arrivare alla diciamo alla prima policy un pochino più completa della commissione europea che praticamente dice speriamo che non funzioni sotto certi aspetti ecco leggendola quindi io ti chiedo qui come interverrete voi? Allora innanzitutto da un punto di vista politico penso che il rapporto tra più Europa e radicali italiani debba prendere una forma matura ok mi piace radicali italiani è un movimento che ha tutto il diritto di continuare a fare la propria iniziativa politica di condurre le proprie battaglie identitarie radicali appunto chiare nette contundenti quanto serve e di farlo in piena autonomia contemporaneamente più Europa deve aiutare e sostenere tutte le battaglie di radicali italiani perché sono battaglie di libertà ma non deve sostituirsi a radicali italiani deve fare il partito politico che partecipa a tutte le competizioni elettorali dal livello comunale a quello europeo avendo come dire in mente il fatto che ci sono tanti cittadini elettori che hanno a cuore quelle battaglie ma ce ne sono tanti altri che hanno altre priorità che non vuol dire che a questi altri non bisogna porre quei temi ma che bisogna anche parlare delle priorità di queste altre persone che appunto sono magari il lavoro la sanità la qualità della vita la propria quotidianità e come come la scala dei bisogni di Maslow quindi diciamo un partito politico che prova a rappresentare la pluralità dei cittadini ha necessariamente diciamo un mestiere diverso rispetto a un movimento diciamo single issue o diciamo few issues di come radicali italiani questo è per quanto riguarda gli extra profitti io non lo so cosa sono gli extra profitti non ho ancora capito anch'io cioè io so cosa sono i profitti so cosa sono le perdite e penso che il profitto viene tassato poi le scelte di tassazione del profitto cambiano da paese a paese ma immaginare che esista come per legge un profitto extra rispetto a quello consueto ci avvicina pian piano a una forma di economia regolata di economia amministrata che inevitabilmente fallisce e infatti diciamo si è usato il concetto degli extra profitti sostanzialmente per dire vogliamo chiedere dei contributi straordinari a qualcuno che secondo noi in questa fase sta guadagnando di più sarebbe stato molto più serio chiedere dei contributi una tantum quantomeno tu sai esattamente quello che stai chiedendo e perché lo stai chiedendo senza ammantarlo di una logica sistemica diciamo quasi moralistica no? cioè ci sono dei profitti extra che tu non dovevi avere quindi io su questa roba qua sono totalmente netto perché poi ti torna ti torna in faccia in qualsiasi ambito sul price cap ovviamente c'è un fronte retorico che è quello usato dall'Europa con Putin per dire oh attenzione guarda che se qua tu minacci di chiudere i rubinetti noi minacciamo di chiudere i nostri rubinetti diciamo di soldi verso di te e ci sta dopodiché trasformarla in policy strutturale come sta dimostrando la realtà è molto più complicato io penso che dobbiamo affrancarci dalla dipendenza energetica dalla Russia e da altri paesi non democratici e con agende spesso ostili all'occidente nelle forme sane e pragmatiche che esistono ripeto attraverso ad esempio l'autonomia energetica con un mix che includa anche e non solo il nucleare ma immaginare che questa soluzione sia il price cap è come dire una scemenza una scemenza diciamo tecnica e dimostrabile da questo punto di vista non sto dicendo che radicali italiani dice cose dice scemenze dico che dice anche giustamente cose che io non condivido e che su cui non credo che più Europa debba debba impegnarsi perché io penso invece che la forza di un movimento politico come più Europa debba essere quello di ritrovare la sua natura di forza che prova a parlare di razionalità economica magari semplificando il linguaggio magari ampliando un po' la platea magari con un atteggiamento anche un po' diciamo un minimo più di umiltà nel modo in cui si pone ai cittadini magari con un livello di istruzione più basso o che hanno poco tempo da dedicare alla politica però non deve mai perdere di vista la razionalità economica perché altrimenti come dire non facciamo il nostro mestiere a volte questa questa perdita di vista della razionalità la vedo anche nei nostri amici di azioni della viva nel PD senza ombra di dubbio ovvio ovvio poi è sempre una scala di grigi potremmo dirci ascoltati ti rivolgo a una domanda che ho visto passare in chat da parte di qualcuno che ci sta seguendo e questa è una domanda abbastanza cattiva quindi ovviamente usufruirò della scusa della chat per rivolgertela perché appunto si domandano per come mai allo scorso congresso non hai partecipato allo scorso congresso sottointeso di più Europa e ora invece sì cioè cos'è che è cambiato cos'è che non si poteva fare allo scorso congresso che oggi si può fare allo scorso congresso di più Europa allora io sono molto interessato sono molto interessato alla democrazia interna ai partiti 75 anni fa ieri veniva approvata la veniva promulgata la Costituzione della Repubblica Italiana da 75 anni stiamo aspettando l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti sulla forma partito su cosa avviene nei partiti perché io penso che questo sia un tema cruciale per la solidà della democrazia italiana che i partiti funzionino in maniera trasparente competitiva democratica al loro interno e questo mi interessa ad esempio anche nella prospettiva di una costruzione di un partito liberal democratico più ampio che non può essere evidentemente la intesa graziosa tra Carlo Calenda e Matteo Renzi allora allo scorso congresso di più Europa noi con altri amici Carmelo Palma Riccardo Lomonaco e altri amici Emanuele Pinelli abbiamo potentemente contestato quello che stava avvenendo cioè una violazione palese secondo noi di regole legate alle modalità di iscrizione e poi come dire quindi di partecipazione democratica al congresso non siamo stati come dire ascoltati c'è stato un verbo muro contro muro e poi giusto o sbagliato che fosse io mi sono disimpegnato rispetto a quel congresso altri amici hanno deciso di impegnarsi invece in un ricorso giudiziario rispetto a questa a quelle che secondo noi sono state delle violazioni evidenti dello statuto di più Europa e questa questa vicenda ha portato poi un anno dopo a due transazioni degli accordi transattivi tra il partito e i ricorrenti dopo che un giudice aveva sospeso tutte le cariche di più Europa era successo a più Europa quello che era successo al Movimento 5 Stelle quando era stato sospeso Conte in qualche modo queste transazioni hanno ripristinato a nostro parere le condizioni di legalità e di democrazia interna al partito perché hanno previsto che per il prossimo congresso quello che andiamo a fare ci sia una commissione di garanzia paritetica tra il partito e i ricorrenti che sovraintende la valutazione di chi è scritto per evitare che ci siano come dire i pullman fisici o virtuali e li abbiamo visti mi ricordo ancora nel 2018 se non vado errato 19 no 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 con cappato anche il 2018 le elezioni politiche e poi il congresso il 2019 quindi una commissione di garanzia che ripristina le modalità e poi come dire un regolamento congressuale chiaro trasparente che ci porterà al congresso viste queste condizioni cambiate oggettivamente come dire mi piace l'idea di rientrare partecipare al congresso e di farlo con una proposta che è quella di Federico Pizzarotti segretario perché appunto uniamo un tema di cui volevo parlare prima cioè quando dico che più Europa deve parlare di più cose lo deve fare attraverso una pluralità di figure che la rappresentano perché poi alla fine gli elettori come dire le idee camminano sulle gambe delle persone gli elettori vedono i volti di chi rappresenta un partito e allora Emma Bonino è un'icona ed è chiaramente la figura su cui è nata e si è sviluppata l'iniziativa di più Europa è bene oggi pluralizzare questi volti con figure che hanno delle esperienze diverse in tanti ambiti ma che possano in qualche modo essere riconoscibili dagli elettori Federico Pizzarotti secondo me è una figura di questo tipo alcune le abbiamo perse mi sarebbe piaciuto che continuassero a impegnarsi in più Europa ma mi dispiace tanto tipo Cappato tipo Giulia Pastorella e altri ok va bene allora volevo chiederti secondo te quali sono gli errori che ha commesso della vedova perché insomma il segretario è lui adesso però qualche elemento fattuale su cui tu magari avresti da sindacare ecco poi o consideriamo sempre che i leader devono fare le loro scelte quindi ci saranno delle cose che ci piacciono delle cose che ci piacciono di meno oppure non vuoi rispondere no io su questo mi sono ripromesso l'ho detto in prima da tante persone che parteciperò al congresso di Piropa parlando di quello che Piropa deve fare in futuro secondo me non voglio parlarvi della vedova ok ottimo mi fa piacere mi fa piacere no 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 in verità mi fa stra piacere perché in una politica che parla sempre delle ore degli altri ho notato che difficilmente vai a dire questo sbagliato quello no quindi volevo capire anche questo aspetto beh direi che abbiamo affrontato una marea di temi ecco io penso che sia abbastanza chiaro quello che vuoi portare avanti spero di insomma di poter ospitare qua sul canale anche magari qualcun altro di più Europa che vuole candidarsi e fare la sua la sua mossa insomma anche per avere pluralità di idee ecco prima vorrei che passasse l'idea che io appoggio voi o appoggio qualcuno no no ma certo assolutamente no però mi ha fatto piacere è stata una piacevole chiacchierata grazie mille grazie mille a te e scusate per il tempo che vi abbiamo tolto a tutti quelli che ci hanno ascoltato diciamo buon 2023 non credo buon 2023 ok buon 2023 anche a te in bocca al lupo e buona serata ciao ciao viva il lupo ciao